Contro, fino alle barricate, contro questo provvedimento, perché? Sì, perché gli effetti di questo decreto li ha già prodotti dal 24 di dicembre. Hanno usufruito della liberazione anticipata speciale, quindi dello sconto di pena, mafiosi, assassini, stupratori, tutti indistintamente. Noi denunciamo questo effetto del decreto legge e non accettiamo che si risolvano i problemi in questo modo. Il sovraffollamento carcerario non si risolve così e molto probabilmente vediamo che cosa combinerà questo governo, perché è probabile che arrivino magari indulti e omnistie.